Io ho una domanda invece da fare, ma in che senso socialità? Non è il senso. Ok, prendiamo il tonto che io sono al telefono, d'accordo? Devo farmi 6 ore di viaggio in treno, sono al telefono, fissa, perfetto. Chi me lo dice che qualcun altro intorno a me è più interessante della persona con la quale magari sto parlando in quel momento? Che per me comunque è essere sociale. Quindi la socialità, ci sono tantissimi modi per essere sociali. Non è detto che parlare con te mi dia più gioia che stare al telefono e parlare con un'altra persona. C'è, non implica essere sociale. Oppure potrei tranquillamente estranearmi dal mondo, guardare un punto fisso, non toccare il telefono per 6 ore, ma sono esclusa dal mondo completamente. Sì, sì, ma siamo per socializzare, no? Cioè il problema per me è quasi l'opposto. Siamo sempre in collegamento con qualcosa o con qualcuno e manchiamo invece di spazi di interiorizzazione. Tra l'altro, tra l'altro. E' quasi l'opposto. Quindi non vedo come uno strumento tecnologico a caso, quindi il telefono, il computer o quello che è, possa essere determinante per una definizione sociale o non sociale o appunto sociale bello o sociale brutto.